Io stavo cercando degli illuminati, delle persone sapienti, e mentre cercavo un bel giorno, voi, proprio voi, siete arrivati qui. Non li quanto più. Che cosa? I maledetti giorni da quando siamo qui. Mi sembra esserci nato in questa solitudine. Io non riesco a capire però. Perché ti sei fermata qua? Eh? Questo è un posto strano dove siete finiti. Guarda che quelli non hanno niente in mano, l'han detto loro. Diciamo che le cose cambiano. Anche le persone. Eh già, pure tu, eh? Ma tu non ci tieni a lei? Non l'hai visto dove sono arrivato? L'hai visto o no? Adesso finisco nei casini io! La domica non sta messa per niente bene. E se muore, ce la riporti tu giù in paese? Allora? Che vogliamo fare? Rubio, che vuol dire che cercavano me? Tieni. Leggi là. Pagina 33. Ma dai, non esagerare. È solo una persona, dai. Mastro, io la finitura non la voglio fare. Io al gabbro non voglio finire. Io non so affatto per sbagliare. Non c'è un punto dove prende il cellulare qua? E questo è uno degli ultimi posti in Italia dove non prende neanche Radiomaria. Per quello si chiama Monte Paradiso, sai? Sergio, con affetto. Non ti faranno male tutte queste sigarette? Le vedi quelle nuve? Eh beh? Anche Dio è un fumatore. E questo è un fumatore.